Questo mese è in arrivo un intero canale con tutti gli episodi e le puntate speciali di A Casa dei Loud Per una settimana ogni giorno sarà dedicato a una sorella Loud con una lunga maratona Tutte le stagioni, maratone e nuovi episodi in A Casa dei Loud, sorelle e pazzerelle Da lunedì 21 a domenica 27 giugno solo su Nickelodeon P1